Ciao, benvenuta, va ti baciare, ciao, benvenuta, accomodati, ti abbiamo recentemente vista e applaudita anche a Sanremo insieme a Elodie, è una performance di cui ancora si parla e che rivediamo insieme per un istante, beh stupenda, bellissimo rivederti anche per te immagino, ti avranno fatto un sacco di complimenti per questa esibizione, di che tipo? A questo giro mi hanno trattata molto bene. Perché secondo te? Che differenza c'era? Beh non lo so, sono sincera, non ne ho la minima idea, forse per la prima volta vedono un artista dietro alla sua immagine, non vedono solo la sua immagine ma vedono anche ciò che sono capace di fare e quindi forse non si sono soffermati tutti solo sul mio fisico. Perché questo è successo l'anno scorso su un altro palco, quello del concertone del primo maggio, insomma tu hai detto che quel giorno su quel palco hai sentito delle frasi terribili? Sì, lì mi sono esposta un po' di più, mi avevano chiesto di parlare del mio messaggio di pace e cosa potevo fare se non quello, se non parlare del mio passato, di come l'ho superato, ho cercato di aiutare più persone possibili, ovviamente le persone che sono grintose, forti nella vita e si fanno valere, danno sempre molto fastidio e quindi quello che è successo è che ho suscitato un po' di odio ma ce lo lasciamo alle spalle, che ce ne frega. Come si è, come si è, quello che, le cose cattive che ti dicono sono diventate energia dentro di te. Ma per me sono sempre state un po', sai, le pile elettriche da inserire per partire ad essere sempre più forte, da quando ero piccola ho iniziato a scrivere proprio a causa di queste persone che mi trattavano malissimo, non mi rispettavano e ho continuato a farlo. Ogni commento negativo, per quanto ad oggi faccio finta, cioè non li leggo neanche in realtà, diventa praticamente una scossa per fare sempre di più, come è giusto che sia. Poi crescendo ho capito effettivamente quanto valgo, cosa posso fare e quindi ad oggi sono molto più calma. Fortunatamente perché se no... Perché scrivere per te è stata una reazione anche a queste cose. Sì, è stato uno scudo. Io quando ero piccola utilizzavo Big Mama come scudo e poi la cosa è andata avanti fin quando Big Mama e Marianna si sono unite, Bona Potentissima l'ennesima Potenza e adesso siamo qui di nuovo, eccoci. E tra l'altro questa è, c'è una Barbie fantastica che è nella copertina del tuo nuovo singolo, Ma che it, scusami se lo dico perché ma che it è nella doppia traduzione del dialetto napoletano e della lingua inglese, dillo tu bene. Allora, vabbè, in italiano la frase è ma che it, quindi che pezzo forte, in napoletano è ma che it, che significa ma che hai detto. Ecco, lo stiamo vedendo insieme, questa sei tu, questa versione meravigliosa della Barbie, tu giocavi con la Barbie quando eri bambina? Sì, in realtà, cioè mangiavo le mani delle Barbie, ma che bella immagine, che bella, lo so, ma infatti mia mamma mi ha sempre un po' odiata per questa cosa, prendeva queste Barbie costosissime e poi io mangiavo le mani. Ma le mangiucchi, cioè le masticavi come si faceva con il tappo della penna Bic? Le masticavo, no, non le mangiavo perché se no ad oggi non stavamo parlando qua, sarei stata morta da qualche parte, però sì, le masticavo. E poi le sputtavi con sdegno anche. No, ma cioè non si staccava la mano, capito? Questo è un grande spot anche per la durevolezza della Barbie medesima, ecco, che può resistere a un morso di una bambina impertinente, però se ci fosse qualcuno, qualche adolescente, che sono magari anche quelli un po' più in difficoltà nel reagire alle cattiverie, ripensando a te adolescente, che cos'è la cosa che ti ha fatto scattare quella cosa in più per cui hai pensato non mi importa di quello che dici, conta solo quello che faccio? Ma le cose importanti sono due, in primis il tempo, il tempo cura tanto, con la crescita si capiscono tante cose, si immagazzinano tanti pensieri e tante consapevolezze e poi sicuramente io dico sempre questa cosa, di trovare qualcosa che piaccia davvero, qualcosa nella quale si è molto bravi, andare per i propri obiettivi, perché prima o poi quegli obiettivi vi porteranno a capire che voi valete qualcosa, come io ho fatto con la musica, piano piano, passo dopo passo, ho iniziato a capire che potevo essere qualcosa, qualcuno e che io non ero solo quella che gli altri volevano dirmi di essere. Tu sei molto molto più buona di quello che gli altri, tu sei buonissima! Ah, grazie, grazie Big Mala, come ci si saluta tra rapper? Non lo so, non ne ho la minima idea, batti 5 tipo, un po' così, all'inizio ho fatto il bacio, allora, ce l'abbiamo, batti e poi questa roba è troppo un po' da boomer, quindi solo batti così e poi dai il punto. Potrei essere tua madre, lo sai, quanti anni ha tua madre? Quanti anni ha mia mamma? Del 69, io calcoli, io non lì se ho fatto discalculica. No, lo so io, ho 4 anni più di me, sì potrei essere tua madre, vattene veramente, non ce la posso fare a invitare gente che potrebbe essere mia figlia, ma che la vorrei una figlia così. Ciao, grazie, ciao Big Mala, ciao, grazie.